Novecento di Alessandro Baricco, editore Grandi Letture Feltrinelli. Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva. È una cosa difficile da capire, voglio dire, ci stavamo più di mille su quella nave, tra ricconi in viaggio, emigranti, gente strana e noi. Eppure c'era sempre uno, uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando semplicemente lì sul ponte, magari era lì che stava aggiustando i pantaloni, alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava, lì dove era, gli partiva il cuore a mille e sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava L'America! Poi rimaneva lì, immobile, come se avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'avrebbe fatta lui l'America. La sera, dopo il lavoro, le domeniche, si era fatto l'intardo al cognato, il muratore, brava persona. Prima aveva in mente qualcosa incompensato, poi gli ha preso un po' la mano e ha fatto l'America. Quello che per primo vede l'America, su ogni nave ce n'è uno, e non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso, no. E nemmeno per una questione di diotrie è il destino quello. Quella è gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini, tu potevi guardarli negli occhi e se guardavi bene, già la vedevi l'America, già lì pronta a scattare, scivolare giù per nervi e sangue e che ne so io, fino al cervello e da lì alla lingua, fino dentro quel grido. America! C'era già, in quegli occhi, di bambino, tutta l'America. Lì ad aspettare. Questo me l'ha insegnato Danny Budman T.D.Lemon 900, il più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano. Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto. Così diceva, quello che vedranno. Io ne ho viste di Americhe. Sei anni su quella nave. Cinque, sei in viaggio ogni anno. Dall'Europa all'America e ritorno. Sempre a mollo nell'oceano. Quando scendevi a terra non riuscivi neanche a pisciare dritto nel cesso. Lui era fermo, lui, ma tu continuai a dondolare. Perché da una nave si può anche scendere. Ma dall'oceano... Quando c'ero salito avevo 17 anni e di una sola cosa mi fregava nella vita. Suonare la tromba. Così, quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il biroscrafo, il Virginian, giù al porto, io mi misi in coda. Io e la mia tromba. Gennaio 1927. Li abbiamo già i suonatori, disse il tizio della compagnia. Lo so. E mi misi a suonare. Lui se ne state lì a fissarmi senza muovere un muscolo. Aspettò che finissi senza dire una parola. Poi mi chiese. Cos'era? Non lo so. Gli si illuminarono gli occhi. Quando non sai cos'è, allora è jazz. Poi fece una cosa strana con la bocca. Forse era un sorriso. Aveva un dente d'oro proprio qui. Così in centro che sembrava l'avesse messo in vetrina per venderlo. Ci vanno matti per quella musica lassù. Lassù voleva dire sulla nave. E quella specie di sorriso voleva dire che mi avevano preso. Suonavamo tre, quattro volte al giorno. Prima per i ricchi della classe di lusso. Poi per quelli della seconda. E ogni tanto si andava anche da quei poveracci degli emigrati. E si suonava per loro. Ma senza la divisa. Così come veniva. Ogni tanto suonavamo insieme a loro. E suonavano anche loro con noi. Suonavamo perché l'oceano è grande. E fa paura. Suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo. E si dimenticasse dov'era. E chi era. Suonavamo per farli ballare. Perché se balli non puoi morire. E ti senti Dio. E suonavamo in ragtime. Perché è la musica su cui Dio balla. Quando nessuno lo vede. Su cui Dio ballava. Se solo era negro. Grazie. Grazie. Grazie.